Ho sentito la notizia per cui si intenderebbe istituire il ministero del catechista. Mi sembra una cosa anche interessante, sempre che non si pensi che chiamare qualcosa ministero serva a farla considerare di più. Basta vedere cosa ne è del ministero del lettore nella maggior parte delle nostre chiese. Io credo che non basta un cambiamento di nome o funzione per ridare dignità ad una data funzione liturgica. Siamo stati abituati non solo in campo religioso ma anche in quello politico di diffidare di tutto questo. Poi bisogna capire in che modo questo cambiamento riqualificherà il ruolo del catechista. Esso non deve essere colui o colei che spinge gli studenti ad avere una visione critica della dottrina cristiana come se si insegnasse un poeta, un romanziere o un filosofo. Lui o lei deve paolinamente trasmettere quello che ha ricevuto facendo in modo che coloro che si preparano per la comunione o la cresima o per altri sacramenti possano essere informati di quello che accetteranno e che, forse in futuro, potranno anche rifiutare. La saggezza del catechismo di San Pio X era quella di fornire domande e risposte chiare da memorizzare. La fase della comprensione e dell'approfondimento sarebbe venuta più tardi per chi voleva. Il catechista deve istillare curiosità, voglia di approfondire, suggerire testi di apologetica per sondare le ragioni a favore della fede. Le ragioni a favore del mondo, lo studente di catechismo comunque le troverà ovunque. Quindi vediamo cosa ne sarà di questo ministero del catechista. Speriamo che non sia soltanto un cambiamento di nome per cui si crede di far cambiare anche poi la sostanza. Speriamo che i catechisti verranno veramente riqualificati nel senso di essere coloro che trasmettono la dottrina cristiana integra agli studenti di catechismo in modo che poi questi studenti possano, in un giorno futuro, se così saranno ispirati a approfondire quelle cose che hanno imparato nel catechismo per capire se c'è una ragionevolezza nella speranza che è in noi.